E allora qualche minuto fa prima di lasciarci per le notizie del genere di Popolare Network vi avevo già preannunciato di che cosa avremmo parlato nell'ultima ma non meno importante anzi tutt'altro sezione della puntata di oggi di Play ci occupiamo di un rapporto che è stato stilato da ActionAid assieme ad Open Police e tecnicamente si guarda all'accoglienza anche se in italiano diamo un'accezione positiva a questo termine per come viene portato avanti non so se mi sento di abbinarla a quello di cui stiamo per parlare ma insomma ne parliamo con ActionAid e in particolare con Fabrizio Coresi a cui diamo il bentornato qui su Play, ciao Fabrizio Buongiorno Alessio, buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito Allora questo è un rapporto che ha un titolo che già racconta un po' tutto Un fallimento annunciato, Centri d'Italia 2023 Volevo chiederti prima di andare a guardare al succo insomma agli elementi più salienti di questo rapporto come insomma chi ha partecipato alla stesura di questo testo e come ci siete arrivati Grazie della domanda Noi partiamo diciamo da un osservatorio privilegiato che è quello del progetto Centri d'Italia che dal 2018 ormai portiamo avanti con Open Police Insieme ad Open Police lavoriamo per realizzare un monitoraggio del sistema di accoglienza che si è capace di sopperire a quella che riscontriamo essere una cronica mancanza di trasparenza per cui siamo arrivati a dar vita fortunatamente con uno sforzo in mane di ricerca, sistematizzazione e analisi ma anche di azioni legali a una piattaforma che è quella di Centri d'Italia dove si possono trovare invito gli ascoltatori ad andarci perché ha un'interfaccia veramente user friendly tutti i dati di cui parleremo adesso e che abbiamo messo insieme appunto dal 2018 fino ad oggi ed è stato possibile dicevo solamente grazie alle vittorie che abbiamo ottenuto anche nei tribunali che hanno riconosciuto il nostro diritto di accedere a queste informazioni e obbligato il Ministero dell'Interno a rilasciare i dati nello specifico abbiamo vinto al Tar Lazio nel 2020 al Consiglio di Stato nel 2022 ma nonostante questo nonostante riusciamo con grande sforzo a colmare questo buco informativo rileviamo continuamente ogni anno la reticenza del Ministero dell'Interno nel rilascio dei dati nonostante noi la chiediamo sempre dopo la data prevista per la pubblicazione dell'unico strumento di trasparenza che hanno a disposizione i decisori ovvero la relazione annuale sul sistema d'accoglienza che è previsto per il 30 giugno di ogni anno noi per non aggravare l'amministrazione con le nostre richieste la chiediamo dopo perché evidentemente l'amministrazione deve aver già elaborato questi dati purtroppo però questa relazione è continuamente disattesa nella sua scadenza e ancora siamo in attesa della relazione relativa al 2022 sul sistema di accoglienza quindi anche quest'anno purtroppo anticipiamo nostro malgrado il Ministero dell'Interno nel rilascio di informazioni che dovrebbero essere appannaggio di tutti già di per sé insomma dovrebbe essere la pubblica amministrazione a rilasciarla e per colmare questo buco quest'anno ci siamo rivolti anche alla banca dati dei contratti pubblici dell'ANAC dell'autorità nazionale anticorruzione proprio perché scontiamo una mancanza di programmazione rispetto al sistema di accoglienza e per comprendere quale sia il nuovo approccio del governo all'accoglienza abbiamo appunto scandagliato questa banca dati di difficile analisi ma di facile reperimento in quanto a reperimento di dati perché sono dei dati aperti e così abbiamo fotografato diciamo quantomeno quelle che sono le intenzioni iniziali delle prefetture nel dipanare appunto nello sviluppare questo sistema di accoglienza chiaro quindi la difficoltà principale non è stata tanto quella che si riscontra altre volte i dati ci sono ma magari sono scritti in maniera molto ostica e bisogna faticare per tirarli fuori no bisogna proprio anche solo faticare per farseli dare e poi da lì in avanti riuscire ad analizzarli questo insomma mi sembrava un'introduzione doverosa a questo tipo di rapporto che quindi già parte con una certa difficoltà i dati però poi alla fine li avete raccolti li avete messi insieme e quindi che cosa ci puoi raccontare rispetto all'accoglienza in Italia appunto dico accoglienza un po' tra virgolette perché insomma è sempre meno accogliente sì purtroppo fatichiamo sempre di più a chiamarla accoglienza innanzitutto riscontriamo per quanto riguarda i singoli centri quindi i centri che si sono distribuiti sul territorio riscontriamo che dopo anni di contrazione del sistema di accoglienza per questo si chiama il nostro rapporto anche per questo un fallimento annunciato perché appunto manchiamo di un piano nazionale accoglienza ormai purtroppo dal 2016 quindi non c'è una programmazione non sappiamo neanche come siano distribuite le persone sui territori e nel corso degli anni soprattutto dopo il decreto sicurezza del 2018 il sistema è andato via via perdendo moltissimi posti e tra il 2018 e il 2021 ne ha persi oltre 70.000 posti soprattutto all'interno dei cosiddetti centri di accoglienza straordinaria gestiti dalle prefetture la cosa particolare e diciamo svantaggiosa è stata perderli soprattutto all'interno di strutture piccole 24.000 di questi 70.000 posti si sono persi all'interno di strutture piccole e siamo in degli anni quelli del 2018 e il 2021 in cui gli arrivi calano drasticamente sono il 40% in meno le persone in accoglienza quindi si sarebbe potuta sfruttare l'occasione che ricordiamola ha un costo umano purtroppo veramente alto perché deriva dall'accordo con la Libia del 2017 quindi sappiamo quale sia il costo umano di questa diminuzione degli arrivi però si poteva sfruttare quest'occasione per rinsaldare il sistema pubblico quello in capo ai comuni l'accoglienza che la legge 142 individua come quella principale ordinaria purtroppo perdendo posti piccoli non si è investito nell'accoglienza pubblica e non si è neanche sfruttata l'occasione per far transitare i centri straordinari che rispondevano già ai criteri in linea agli standard del sistema pubblico transitare appunto nel sistema pubblico e rinsaldarlo perché vediamo che anche il sistema pubblico rimane praticamente uguale a se stesso negli anni fra 18 e 21 nel 22 invece come dicevo il sistema nuovamente comincia a crescere perché c'è l'esigenza di reperire fra 20 e 30 mila posti quindi torniamo a circa 121 mila posti di capacità del sistema e rimane come criticità fondamentale il fatto che questo sistema sia imperniato l'architrave di questo sistema sia proprio costituita dai centri straordinari che invece dovevano nel disegno iniziale essere solamente l'elemento di elasticità del sistema ovvero quando non si fosse trovato posto all'interno del sistema pubblico si sarebbero attivati i centri straordinari purtroppo non è andata così come spesso accade in Italia quello che è straordinario e temporaneo diventa ordinario ed è diventata la colonna portante e nel 22 ancora rappresentano il 60% circa dei 121 mila posti complessivi inoltre assistiamo anche ad una crescita dei centri di prima accoglienza i centri molto grandi che aumentano però anche la loro capienza media passando da 266 posti in media a 335 posti quindi l'attenzione alla persona in questi luoghi è sicuramente sempre minore la maggior parte delle persone è poi accolta nel sud Italia quindi il 31% degli accolti circa che è nel sud Italia ma se guardiamo al rapporto tra ospiti e popolazione innanzitutto dobbiamo dirci che non c'è alcuna invasione non c'è alcuna emergenza nonostante sia stato dichiarato uno stato di emergenza nell'aprile scorso ma anche il ministro Piantedosi due giorni dopo ha detto che era solo uno strumento tecnico e che non aveva a che fare con una reale emergenza sui numeri ebbene i dati lo confermano perché la popolazione degli accolti è solamente lo 0,18% della popolazione residente in Italia quindi siamo davanti a numeri infinitesimali se guardiamo è anche un po' un paradosso nel senso che appunto da un lato si evoca questa emergenza dall'altro però si riduce la possibilità di accoglienza quindi c'è il cinismo in buona parte disumano nel appunto ridurre questi numeri lasciare le persone a sé ma c'è anche proprio uno scollamento con la realtà cioè queste persone non sono effettivamente dei numeri sono delle persone che da qualche parte finiranno e quindi se riduciamo i posti a disposizione insomma ci ritroviamo con delle persone che non hanno un luogo nonostante poi ci sia il lamento e la polemica rispetto a questi grandi numeri insomma è un cortocircuito mentale totale certamente senza dimenticare anche le rilevazioni che facevamo lo scorso anno quando noi avevamo proprio denunciato il vuoto dell'accoglienza ovvero a fronte di una narrazione che parlava di un sistema a collasso noi rinvenivamo una quota sempre libera e non utilizzata di posti all'interno del sistema di accoglienza e questo si verificava proprio per una mancanza di programmazione per una gestione irrazionale della distribuzione delle persone sul territorio per un mancato collegamento fra il circuito straordinario dei CAS e il circuito invece principale e ordinario in capo ai comuni quello che si chiama adesso con il nome di SAI sistema di accoglienza e integrazione per cui rimaneva una quota di posti vuoti e noi comunque assistevamo diciamo emblematicamente alle file delle persone in strada davanti alle questure per formalizzare la richiesta di asilo e fare contemporaneamente richiesta di un posto in accoglienza e quindi le lungaggini burocratiche diciamo così si abbattevano e si abbattono ancora sulla vita delle persone lasciandole senza un posto in accoglienza molte volte per una mancata organizzazione per una disorganizzazione della pubblica amministrazione sostanzialmente non certo come stavamo cercando di dimostrare per flussi di persone ingestibili perché di fatto ingestibili non sono e non lo sono ancora di più alla luce del fatto che se noi fra il 2021 e il 2022 abbiamo reperito circa 30.000 posti in accoglienza la stessa identica cosa è accaduta fra il 2022 e il 2023 noi non abbiamo ancora i dati del 2023 perché lavoriamo sui dati consolidati quindi non suscettibili di cambiamento del ministero dell'interno e scontiamo un ritardo ma se andiamo a vedere il numero degli accolti da parte del ministero dell'interno che pubblica sul sito sul cruscotto statistico per il 2023 vediamo che non supera mai 141.000 quindi vuol dire che anche fra 2022 e 2023 si sono reperiti 20.000 posti esattamente come l'anno precedente solo che nel 2023 è stato dipinto diciamo uno scenario emergenziale e si è andato diciamo di deroga in deroga e poi lo vedremo magari parlando dei bandi che abbiamo potuto analizzare che ci danno un po' la prospettiva sull'attualità ecco appunto esatto forse non abbiamo il tempo di approfondire il tutto io invito insomma i nostri ascoltatori i nostri spettatori a dare un'occhiata appunto a un fallimento annunciato Centro Italia 2023 tantissimi numeri tantissimi elementi all'interno di questo rapporto non spaventatevi nel senso c'è un'introduzione al rapporto dove già c'è una sorta di riassunto se volete limitarvi ai dati salienti e poi volendo invece si va a leggere il resto della quarantina circa di pagine all'interno di questo documento non andrei troppo a fondo all'interno di questo rapporto perché invece volevo parlare con te di insomma un aspetto se vogliamo propositivo un po' già ci hai fatto capire quali sono le falle di tutto questo sistema ma insomma c'è una richiesta c'è un appello che possiamo portare avanti assieme al racconto di questo rapporto allora innanzitutto l'appello che Action Aid e Open Police rivolgono ai decisori è quello di utilizzare le nostre rilevazioni per avere risposte dal governo perché non ci siamo appunto arrivati ma consentimi di dire che purtroppo quello che noi riscontriamo è che sin dall'insediamento il nuovo governo procede con piccole e continue modifiche anche all'interno di decreti che nulla hanno a che vedere con la migrazione e va a modificare appunto svilendolo il diritto d'asilo e il diritto all'accoglienza quando dico di decreti che non hanno nulla a che vedere con l'immigrazione faccio un esempio nel decreto sud ci sono delle importantissime novità per quanto riguarda l'accoglienza ma la vita anche delle persone migranti in Italia il problema che riscontriamo è che si riduce ancora la qualità dell'accoglienza quindi posto il fatto che purtroppo ci sembra un po' utopico in questo momento ma dovremmo sicuramente tornare ad investire sull'accoglienza pubblica quindi sulla micro accoglienza diffusa che un tempo conoscevamo con il nome di Sprar e che oggi conosciamo con il nome di Sai e che vede l'ente locale al centro dei progetti di accoglienza e quindi una possibile integrazione delle due forme di welfare del welfare locale con il welfare diciamo che viene dal sistema di accoglienza che va a beneficio anche delle comunità accoglienti che spesso vedono revitalizzati i servizi per sé proprio grazie all'arrivo di questi nuovi cittadini sul territorio e nell'immediato bisognerebbe rivedere lo schema di capitolato ovvero quel documento che ci parla di quali costi e quali servizi sono previsti all'interno dei centri di accoglienza straordinari e dei centri governativi per rinalzarne lo standard perché il difetto grandissimo è che questi servizi sono praticamente azzerati e così facendo una persona di fatto non può non ha gli strumenti per emanciparsi dal contesto di accoglienza quindi creiamo un contesto di accoglienza che ha quale effetto quello di creare dipendenza e non certo degli individui che vengono così accompagnati all'autonomia e questo corrisponde purtroppo all'ingresso nel mercato di soggetti che non hanno competenze quindi queste sono le prime due operazioni diciamo che bisognerebbe fare immediatamente per consentire anche nuovamente a soggetti del terzo settore di partecipare alle gare e di non assistere più quindi alle difficoltà delle prefetture nell'assegnazione di posti che hanno portato nel 2023 a delle assegnazioni diciamo molto lontane della trasparenza solamente il 10% delle gare avviene in completa trasparenza e la trasparenza quando parliamo di appalti per servizi è la sola garanzia che abbiamo di rispetto del contratto e quindi anche dei servizi previsti e dei diritti degli accolti insomma sei capito che sono tantissimi gli aspetti da tenere in considerazione quindi davvero prezioso questo rapporto viene anche molto facile sospettare che questo tipo di pratiche a partire dalla difficoltà nel reperire dati fino a questi ultimi elementi che mi hai dati insomma sospetto che questa emergenza appunto non ci sia nei fatti ma voglia essere mantenuta alta in maniera artificiale da queste decisioni politiche è insomma un sospetto sempre più più concreto purtroppo ma insomma vi invito ancora a dare un'occhiata a questo rapporto dando insomma cercando Action Aid Italia lo si ritrova molto facilmente anche senza ricordarsi il titolo preciso grazie mille a chi ce n'ha parlato Fabrizio Coresi grazie ancora alla prossima grazie a te grazie a voi